Ost Milano, siamo ora in compagnia del signor Riccardo Gosi, amministratore di Wine Emotion. Ci può raccontare meglio di cosa si occupa la vostra attività? Noi produciamo e distribuiamo dispense per la somministrazione di vino a bicchiere. Questo lo facciamo in buona parte del mondo, perciò Ost è la vetrina più giusta per noi, in quanto è una fiera assolutamente internazionale. Quali sono i vostri prodotti di punta e magari se ci puoi dire le caratteristiche che hanno? I nostri prodotti si dividono in due fasce, un settore casa, home, diciamo un po' per tutti, che vede una piccola macchina, un piccolo dispenser da due bottiglie, che è una news di quest'anno, e poi il settore professional, il settore oreca, dove si vedono più modelli, quattro bottiglie oppure otto bottiglie, singola o doppia temperatura. Questo ci permette di affacciarsi anche a un mercato del self-service, in quanto i nostri dispenser, oltre che essere utilizzati dal personale di servizio, un ristorante, un hotel, un wine store, cioè un'enoteca, possono essere anche gestiti in modo autonomo dal cliente finale attraverso una card o semplicemente un barcode. Quali sono i prossimi passi per Wine Emotion? Noi ci stiamo affacciando sempre più a tanti mercati nuovi. Adesso usciremo a marzo del 2020 con una nuova gamma di prodotti che vedranno i nostri dispenser sempre più performanti e sempre più attenti a quelle che sono le esigenze del mercato, interagendo direttamente col cliente finale e col mercato, cercando di unire al meglio il prodotto vino, cioè il produttore e il consumatore, che sono i due elementi fondamentali di un mercato. Grazie a tutti!